Questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al peggioramento e l'incidenza di casi di Covid-19 cresce a 195 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in salita e si fissa intorno a 1,06, quindi dopo sette settimane supera di nuovo l'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva siamo intorno al 26%, quindi anche questo è in salita, anche se di poco al di sotto della soglia critica del 30%. La circolazione di varianti, soprattutto quella inglese che ormai è predominante, di quella brasiliana sul territorio nazionale rafforza la necessità di interventi di contenimento anche a livello locale e un'accelerazione della campagna vaccinale.